Musica Noi facciamo parte del comitato vita indipendente e esattamente questa manifestazione libera di fare è iniziata già ieri in tutte le città d'Italia e serve per promuovere e favorire la vita indipendente delle persone gravemente disabili La scelta di farla a Fossombrone quest'anno è stata proprio perché volevamo iniziare anche a sensibilizzare il territorio non solo fanno il punto di riferimento per l'entità raffanese ma anche la parte interna del Valle del Metauro quindi oggi è Fossombrone e domani saremo invece a Montecchio Io sono stato coinvolto e sono fiero di essere qui per presentare questa manifestazione in modo di sensibilizzare di più la gente perché il dopo di noi vita indipendente può servire a tutti Oggi magari a noi no ma domani sì I cartelli rappresentano tutto quello che normalmente alle persone gravemente disabili è proibito nel senso che molti di questi cartelli che voi vedete in questo momento non sono fruibili dalle persone che sono soprattutto in sedia a rotelle o con gravi patologie perché già far parte di una comunità è difficoltoso se ci sono barriere architettoniche di fare l'amore se non hai la possibilità di interagire, di uscire nei locali pubblici e di conoscere gente è lo stesso discorso Per lavorare spesso viene disattesa anche la legge 104 e addirittura molte ditte pagano piuttosto la penale piuttosto di assumere persone con la legge 104 e quindi di fare i viaggi io continuo a battagliare anche con l'Anmic per la stazione di Fano che sia accessibile finalmente a tutti anche le persone in sedia a rotelle quindi tutti questi cartelli che voi vedete che vedrete in tutte le piazze italiane oggi a Fusimbrone e domani siamo a Montecchio è proprio per sostenere l'impossibilità per molte persone di poter vivere liberamente